benvenuto benvenuto nel pc di bill ma che pc di bill che cos'è questo è il mondo digitale dove gli allenatori depositano loro pokemon io sono porygon la tua guida oddio lui lui non mi vuole il mio allenatore non mi vuole nella sua squadra così mi ha spedito in un computer non abbatterti amico mio qui nel mondo digitale abbiamo costruito un paradiso virtuale occhiolino a attenzione un farfetch selvatico vuole combattere amico no la fuori potremmo essere stati nemici ma qui siamo tutti amici noi noi non combattiamo la fuori siamo obbligati a vivere in delle sfere e a combattere fino allo sfinimento qui viviamo tutti in armonia potrebbe non essere una vita così eccitante ma è la più pacifica sai porygon non mi sono mai visto come un individuo ho vissuto così a lungo come uno strumento è un'arma per gli allenatori da usare allenare che mi sono dimenticato cosa voglia dire essere ora che sei qui stario hai la tua occasione no quello era il loro nome per me d'ora in poi mi prenderò cura del mio destino e vorrei che il mio nome fosse jeremy benvenuto a casa jeremy grazie abbiamo tutti quanti e tu stai cercando di infilare quel magneton dentro al computer faccio quello che voglio non sei mio padre nessuno è mio padre a a